Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ben ritrovati sul mio canale e questa è la mia prima registrazione su Playstation 3 con l'Elgato, tra l'altro appena comprato, oh ho fatto anche la rima, è appena attaccato, Elgato, appena comprato, appena attacchato, faccio proprio un video così veloce per vedere come, se funziona tutto, insomma se va tutto nella maniera giusta, penso e spero di sì, questo quindi è il mio primissimo video su GTA, non farò niente di particolare, GTA online ovviamente, questo non è il single player, ah, non vi presento il mio personaggio, eh scusate eh, scendo un attimo, ma che stile, ora questo io mi schiaccio eh, se non mi levo dalle palle, prego prego passi, ma che stile c'ho, guarda lì, jeans neri, giacchettino, cappello da cowboy e poi ovviamente, come non farvi un bel saluto, rock and roll la bestia, e questo è il mio personaggio nell'online, soldi? soldi? quanto c'ho? soldi, 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 5.000 che devo mettere, finanze e servizi, che devo mettere in banca quanto prima, che non mi ammazzi, non me li rubino tutti, bello dito che mi ando a fare in culo, è certo, menu, boom, ehi Danny, ciao, saluto Danny Zane che gioca spesso con me, però poi se ne andrà conto di essere il video che appunto sto facendo Danny, sto facendo un video così di prova dell'elgato per vedere come funziona il tutto, dunque, sembra girare la figata dell'elgato è che non ha bisogno di cuffie attaccate alla playstation e dunque al televisore, ma con le cuffie vostre usb, riconosciute dal programma di registrazione dell'elgato, praticamente potete usare tranquillamente le cuffie usb collegate al vostro computer, e manco alla playstation e niente, e registrate con quelle lì, quindi potete tranquillamente giocare, registrando la vostra voce magari con gli amici, trovandovi su team speak, su skype, senza usare la chat del gioco, che vabbè, è bagatissima, lag e queste cose, ok, prima cosa da fare è entrare qui dentro, buongiorno, faccio una bella rapina e poi chiudo il video nel migliore dei modi, Allora, pezzo di merda, dammi intanto tutti i fottutissimi soldi che c'è in cassa, ma anche veloce perché ti spacco il negozio, veloce, stronzo, dammi soldi, stronzo, spacco tutto, ma fa culo alle chewing gum, il big bubble, dai nero, dammi soldi, dammi soldi, Dio Cristo, ti ammazzo, ti sparo nella testa, dai che sta arrivando la polizia, dai, chi l'ha chiamata? Non t'azzardare a spararmi, non t'azzardare a mettere le mani sotto il bancone perché ti brucio la testa, via, 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 mi stanno già sparando, cazzo, corri, dan, scappa, ora praticamente dobbiamo scappare, seminando la polizia, vediamo se, gnavaccio, gnavaccio una sega, sono già qui, porca puntana, vediamo, non sta qui sotto, forse, forse ho trovato il punto giusto e non mi vedono, vediamo, zitti, Zitti Zitti Zitti, 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 è passato oltre Ma è passato oltre, cazzo, fermi, fermi, fermi Oh, oh, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta assimilare la polizia, dai, abbiamo fatto un bel colpo, non abbiamo preso, oh, chi c'è? Gli scrausi qui sotto, non abbiamo preso tantissimi soldi, però, insomma, dai, mille ce l'ha dati, finanze e servizi, mettiamoli qua Principale, deposita, col vaffanculo, è bellissimo 1181 Ok Guarda qui, chiudiamo, che usciamo Sotto che c'è, eh? Ah, sì, le cose, gli sfollati di buono, i barbon A parte sembra più un rave party, sì, no, no, è un rave party Leviamo la pistola, sennò faccio incazzare qualcosa Sì, sì, no, no, non è un rave party, insomma, ci stanno i barboni, quasi se l'ammazzo sta donnina Con tutte le tende Via, ragazzi, al solito, chiudo questo video, l'ho fatto appunto per prova, per vedere come funziona Al solito, mi raccomando, rock'n'roll, sempre a bestia E... ciao a tutti ragazzi, alla prossima Viva il metal, fatevi la prende bene, ah Alla prossima